Dalle fiabe dei fratelli Grimm, i sei cigni, voce di Lorenzo Pieri. Una volta un re cacciava in una gran foresta e inseguiva la preda con tanto ardore che nessuno dei suoi riuscì a tenergli dietro. Quando scese la sera il re si fermò e si guardò intorno e vide che si era smarrito. Cercò una strada per uscire dal bosco ma non la trovò ed ecco vide avvicinarsi una vecchia con la testa tremante. Era una strega. Buona donna le disse non potreste indicarmi la strada che traversa il bosco? Oh sì maestà rispose certo che posso ma a una condizione se non la adempite non uscirete mai più dal bosco e morirete di fame. Che condizione domandò il re. Ho una figlia disse la vecchia bella come nessun'altra al mondo e merita bene di diventar vostra sposa. Se volete farne sua maestà la regina vi indicherò la strada per uscire dal bosco. Impaurito il re acconsentì e la vecchia lo condusse alla sua casetta e lì accanto al fuoco sedeva la figlia che accolse il re come se l'aspettasse. Egli vide bene che era molto bella ma non gli piaceva e non riusciva a guardarla senza un intimo ribrezzo. Quando l'ebbe messa sul cavallo la vecchia gli indicò la strada ed egli tornò alla reggia dove furono celebrate le nozze. Il re era vedovo e aveva sette figli della prima moglie, sei maschietti e una bambina e li amava sopra ogni cosa al mondo. Temendo che la matrigna non li trattasse bene e magari facesse loro del male li portò in un castello solitario in mezzo a un bosco. Era così nascosto ed era così difficile trovare la strada che neppur lui l'avrebbe trovata se una maga non gli avesse regalato un gomitolo di filo di prodigiosa virtù. Quando lo gettava davanti a sé si svolgeva da solo e gli indicava la via. Ma il re andava così spesso dai suoi cari bambini che le sue assenze diedero nell'occhio alla regina. Le venne curiosità di sapere che cosa andasse a fare solo solo nel bosco. Diede molto denaro ai servi ed essi le svelarono il segreto e le dissero anche del gomitolo il solo che potesse indicare la strada. Ella non ebbe pace finché non scoprì dove il re lo custodiva. Poi fece delle piccole camicine di seta bianca e perché aveva imparato la magia di sua madre vi intrecciò un incantesimo e una volta che il re era andato a caccia prese le camicine ed entrò nel bosco e il gomitolo le indicò la strada. I bambini vedendo arrivare qualcuno da lontano pensarono che fosse il loro caro babbo e gli corsero incontro pieni di gioia. Allora ella gettò una camicina su ciascuno e appena questa nebbe sfiorato il corpo eccoli trasformarsi in cigni e volar via per la foresta. La regina tornò a casa tutta contenta credendo d'essersi liberata dei figliastri ma la bambina non le era corsa incontro coi fratelli e di lei la matrigna non sapeva nulla. Il giorno dopo il re andò a vedere i suoi figli ma trovò soltanto la bambina. Dove sono i tuoi fratelli? le chiese. Ah caro babbo, ella rispose, se ne sono andati e mi han lasciata sola. Egli raccontò che dalla sua finestrina aveva visto i fratelli volar via per la foresta sotto forma di cigni e gli mostrò le penne che avevan lasciato cadere nel cortile e che ella aveva raccolto. Il re ne fu molto afflitto ma non pensò che la regina avesse compiuto quella cattiva azione e temendo che gli rapissero anche la fanciulla voleva portarla con sé ma ella aveva paura della matrigna e pregò il padre di lasciarla per quella notte ancora nel castello del bosco. La povera fanciulla pensava qui non posso più restare voglio andare a cercare i miei fratelli e quando si fece buio fuggì e si addentrò nel bosco camminò tutta la notte e anche il giorno dopo senza fermarsi mai finché fu vinta dalla stanchezza allora vide una capanna salì e trovò una stanza con sei lettini ma non osò coricarsi in un letto e vi si cacciò sotto sdraiandosi sul duro pavimento per passarvi la notte ma al calar del sole udì un rumor d'ali e vide sei cigni entrare a volo dalla finestra si posarono in terra e si soffiarono addosso l'un l'altro facendo cadere tutte le penne e la pelle di cigno si tolse come una camicia la fanciulla li guardò riconobbe i suoi fratelli e piena di gioia sbucò fuori da sotto il letto né essi furono meno felici quando scorsero la loro sorellina ma per poco qui non ti puoi fermare dissero questo è un covo di briganti se tornano a casa e ti trovano ti uccideranno non potete proteggermi voi domandò la sorellina no risposero soltanto per un quarto d'ora ogni sera possiamo deporre la nostra pelle di cigno e riprender figura umana ma poi ci trasformiamo di nuovo la sorellina disse piangendo non potete essere liberati ah no risposero le condizioni sono troppo dure per sei anni non puoi parlare né ridere e intanto devi cucire per noi sei camicine di astri una sola parola che ti esca dalle labbra e tutto il lavoro è perduto detto questo il quarto d'ora era passato ed essi volarono fuor dalla finestra sotto forma di cigni ma la fanciulla prese la ferma risoluzione di liberarli anche a costo della vita lasciò la capanna andò in mezzo al bosco e salì su un albero dove passò la notte la mattina dopo andò a cogliere astri e si mise a cucire non poteva parlare con nessuno e di ridere non aveva voglia sedeva tutta intenta al suo lavoro era già passato molto tempo quando il re del paese andò a caccia nel bosco e i suoi cacciatori giunsero all'albero su cui era la fanciulla la chiamarono e dissero chi sei ma ella non rispose scendi le dissero non ti faremo niente ella scosse il capo poiché continuavano a molestarla con le loro domande gettò loro la sua catenella d'oro pensando di appagarli ma quelli non la smettevano ella gettò loro la sua cintura e poiché neppur questo servì le giarrettiere e poco per volta tutto quel che aveva indosso e di cui poteva fare a meno sicché alla fine rimase in camicia ma i cacciatori non si contentarono salirono sull'albero la presero e la condussero dal re il re chiese chi sei cosa fai sull'albero ma ella non rispose glielo chiese in tutte le lingue che sapeva ma ella rimase muta come un pesce pure era tanto bella che gli toccò il cuore ed egli se ne innamorò ardentemente la volse nel suo manto se la mise davanti sul cavallo e la portò alla reggia le fece indossare ricche vesti e nella sua bellezza e la sfolgorava come la luce del giorno ma non si poteva farle aprir bocca a tavola il re la fece sedere al suo fianco e la sua modestia e il suo garbo gli piacquero tanto che disse questa sarà la mia sposa e nessun'altra al mondo e dopo alcuni giorni si celebrarono le forze ma il re aveva una madre cattiva che non era contenta di quel matrimonio e sparlava della giovane regina chissà da dove viene quella ragazza che non sa parlare diceva non è degna di un re dopo un anno quando la regina diede alla luce il suo primo nato la vecchia glielo portò via e mentre essa dormiva le spalmò la bocca di sangue poi andò dal re e l'accusò di essere un'orchessa il re non volle crederlo e non permise che le torcessero un capello intanto ella continuava a cucir le sue camice e non badava ad altro la seconda volta partorì di nuovo un bel maschietto e la perfida suocera usò lo stesso inganno ma il re non poter risolversi a prestar fede ai suoi discorsi disse è troppo buona e pia per fare una cosa simile se non fosse muta e potesse difendersi si rivelerebbe la sua innocenza ma alla terza volta quando la vecchia rapì il neonato e accusò la regina che non disse una parola a propria difesa il re dovette per forza consegnarla al tribunale che la condannò a morire sul rogo venuto il giorno dell'esecuzione ecco trascorso anche l'ultimo giorno dei sei anni durante i quali ella non poteva né parlare né ridere aveva liberato i suoi cari fratelli dalla forza dell'incantesimo le sei camice erano pronte all'ultima soltanto mancava ancora la manica sinistra quando la condussero al rogo e la si mise le camice sul braccio e di lassù mentre stavano per accendere il fuoco si guardò attorno ed ecco sei cigni giungere a volo per l'aria e la vide che la loro liberazione era prossima e il cuore le balzò di gioia con rumor d'ali i cigni calarono accanto a lei sicché ella pote buttar loro addosso le camice appena sfiorate le pelli di cigno caddero e i suoi fratelli le stettero innanzi vivi e sani solo il più giovane invece del braccio sinistro aveva un'ala di cigno attaccata alla schiena si baciarono e s'abbracciarono e la regina andò dal re che guardava sbalordito ella cominciò a parlare disse carissimo sposo ora posso parlare e dirti che sono innocente e ingiustamente accusata e gli raccontò l'inganno della vecchia che le aveva rapito e nascosto i suoi tre bambini allora li mandarono a prendere con gran gioia del re e per castigo la cattiva suocera fu legata al rogo e incenerita ma il re e la regina e i sei fratelli vissero a lungo tranquilli e felici